...gliela avrebbe portate qui... Vai! E' tia! Il giorno dopo! Comunque... Penso di aver capito... Si lo so che... ...e' il posto... ...Done Angeletti... ...Marue Lebarini... ...Michele Berlini... ...Mazzia... ...Nin... ...E' la storia di Dione... ...159... ...e' con la munizione... ...159... ...prima campana... ...-22... ...che vuole i punti... ...punti... ...punti... ...e' quella... ...la campana... ... Matteo Baridonna... ...davanti... ...e' Andrea Angeletti... ...in seconda posizione... ...poi c'è... ...Marco Bedonna... ...davanti... ...e' la... ...302... ...605... ...302... ...605... ...adesso... ...Marco Bedonna... ...davanti... ...la... ...la... ...subito... ...dalle... ...primicini... ...andatura... ...altissima... ...974... ...595... ...974... ...595... ...e' adesso... ...è... ...Maiorca... ...che'... ...lanciato... ...per... ...la... ...è... ...la... ...data... ...dei punti di... ...lle... ...meno... ...19... ...654... ...303... ...6... ...5... ...0.5... Punti di meno 18, 595, 654, 525, 61, 54. Punti di meno 17, 159, 270, 159, 270, il sistema è Matteo Casadei con Fabio Fancolini in seconda posizione, poi Pugbegon in terza e poi Verapizza Vincuata, Punti di meno 16. 150 ore, 270, 25 ore, 270, il sistema è Matteo Casadei con Fabio Fancolini in seconda posizione, poi Pugbegon in terza e poi Verapizza, 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 Pugbegon in terza e poi Verapizza. 270, 628, 270, 628, 84 precedente, siamo con i di meno 14, 628, 605, 628, 605, ancora Matteo Barizzonte avanti, poi Marco Vedona, poi Francolini, poi in terza posizione Lorenzo Bosco, quando siamo ai punti di meno 13. 605, 974, 605, 974, adesso Lorenzo Bosco, poi Mallorca, adesso però davanti, Mallorca, Bosco, Casadei, Parizzonte, Pugbegon in terza e poi Verapizza, Pugbegon in terza e poi Verapizza, Pugbegon in terza e poi Verapizza. Ok, adesso riparte, Matteo Casadei, Pugbegon in terza e poi Verapizza, 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 P 5, 605, 5, 605, Mattia, vieni avanti, poi, Mattia, quando stiamo, 628, prima munizione, dato 5, 605, ancora al traguardo numero 9, disegniamo la munizione del numero 628, prima munizione, qui di meno 8, con la regione, Franco, il ministro, loro, esatto, sono loro, 605, 270, 65270, c'è Matteo Barison, c'è Fabio Fancolini, c'è Mattia Agliero, leggermente avvantaggiati, sulla razza di 2, 605, 270, 605, 270, 605, Pugili, di meno 6, 303, 270, 303, 270, 605, 705, 605, 3, 270, 3, 0, 3, 2, 7, 0. Cassarolino, Francholini, poi Bosco, vediamo che è stato in testa, abbiamo poi insedito i punti di mio 4. 3, 270, 3, 0, 3, 2, 7, 0. Matteo Barison e Fabio Francholini con 9 punti, 7 per Matteo Casadei e Giovanni Cassarolino, che in questo momento sono una ruota, e i punti di mio 3. 628, 302, 6, 2, 8, 3, 0, 2. L'avvento Bosco davanti, adesso passa a Mallorca, c'è Mallorca, c'è Bosco, c'è Fancholini, e Casadei, i punti di mio 2. 654, 973, 6, 5, 4, 9, 7, 3. Roberto, Mallorca, poi l'avvento Bosco, Fancholini, Fabio Francholini e Matteo Casadei, quando suona la campagna tutti i piedi. 973, 279, 7, 3, 2, 7, 0. Fancholini e Matteo Casadei all'esterno, quando siamo alla... Bravola, la finale. Per 3 atleti sono 159, 270 e 973. In 10, in finale, i primi. Partenza valida, campana a meno 22, come prima, giusto? Campana a meno 22, i primi che cominciano a meno 21. Sì, va a girare le case! E subito, numero 8, prima munizione, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. l'esercito, 7. O, La piazza, la campana, con, 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. Poi Cannoni, poi Clementoni, poi Leopoldo alla volta e Riccardo quasi in quarta posizione, punti di numero 21, sì, la diciamo in due, punti di numero 21, 276, 988, 276, 988. 276, 988, 276, 988, Giuseppe Pammante e Gaurieri e Cannoni, sono partiti, partiti, 988, 276, con Daniel Davos in terza posizione, ritorniamo che al termine di questa gara, cerimonia di apertura e poi direttamente le finali, al termine di questa gara, cerimonia di apertura, poi finali, intanto 276, 988, ai punti di meno 18. E adesso è Daniel Nero che va qui da Viglia, con Aleccio e Clementoni in quarta posizione, 988, 276, 988, 276. E adesso è Daniel Nero che va davanti per la volata dei punti di meno 16, 30, 43, 30, 43. Nero 258, prima munizione, 258, 30, 43, 3, 0, 4, 3, al trovato precedente, buona Davide Menegaldo che si è lanciato all'inseguimento dei due fugitivi, e si è andato ad agganciare quattro giri, segna di meno 14, 43, 30, 4, 0, 4, scusate, 4, 3, 3, 0. E grande posizione quest'anno per Alessio Clementoni, l'abbiamo visto anche nel risultato da San Beneglio del Tronto, quando sono i punti di meno 13, in pari al passaggio, 30, 200, 30, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 3. Ancora me negando adesso davanti, poi Clementoni con Barante, Cagnoni, Laosa e Mullai nelle posizioni, dopo dei miei segretori, punti di meno 12, 200, 3, 43, 2, 0, 3, 4, 3. Allora, questo è un bel mandato, quasi metà pista, con la caballina di cannoni, che adesso tira il gruppo degli seguitori, rimane davanti davanti, davanti, anche i punti di meno 11, per i tre fugitivi, 43, 30, 4, 3, 3, 0. Vengo a Nero davanti, poi Menegaldo, poi Clementoni per il gruppo, sono altra amante, la Rosa, Cagnoni, Mullai, ma siamo già ai punti di meno 10, 30, 200, 3, 3, 0, 2, 0, 3, quindi si procede di... Carriera, siamo già a meno 9, con i primi tre, 203, 43, 2, 0, 3, 4, 3. Cagnoni davanti al gruppo degli seguitori, con il Romance, con la Rosa, con Mullai, punti di meno 8, per i tre in fuga, 43, 30, 4, 3, 3, 0. Al passaggio, meno 7, al passaggio, per la testa della corsa, con Daniel Nero, verso davanti, 30, 200, 3, 0, 2, 0, 3, sono 11 punti di Nero, fino a questo momento, Daniel Nero, 13 punti, Clementoni, 10, Romante, 8, Cagnoni, e me negando 7, sono solo 5 gli atleti che sono andati a punti, 203, 40, 3, anzi, l'ultimo traguardo, 2, 0, 0, intanto, siamo a meno 5, al passaggio, punti di meno 5 per il 3, più gentili, 40, 3, 30, 4, 3, 0, con adesso la gente va davanti, qui sono 6 minuti di gara, al prossimo passaggio, punti di meno 4, al passaggio successivo, cioè a questo passaggio, punti di Tampaglio. Numero 8, seconda voluzione, finito di Milano, intanto, 30, 40, 3, questo passaggio, 4, 0, 4, 3, numero 212, prima voluzione, 2, 1, 2, e una volta poi si fa vedere anche Lucantani con Moulay in terza posizione, che è una testa della corsa, punti di meno 3, 43, 30, intanto, al traguardo di meno 3, siamo a meno 2, per il resto del gruppo, c'è un ritmo Moulay, adesso che va al comando, il trappello che sta eseguendo un ultimo tiro per la testa della corsa, 30, 40, 3, 4, 3, sono 17 da Moulay, quando la campana dell'ultimo tiro per la testa della corsa, ha vinto Moulay, poi la rosa, poi i bossi, anche 43, 203, poi la rosa, con la rosa, per la seconda torre di fuorza, l'ultimo finale, per la seconda torre di fuorza, e sono 43, 203, poi arriva le rosa, in corta posizione, tempo di gara, 7,